Pronti ragazzi, scarichi, al mio giro sono disposti, uno, due, tre, eeeh, insieme! E adesso ragazzi, parte finale, voglio i palloncini su, le mani e i palloncini su, le mani e i palloncini su, Mila Medici, viva il ballo romantico, con la gente, con la partecipazione di tutti voi, e a me piace così insieme, fantastico, sposi, vogliamo un bacio romantico, al termine, un bacio romantico! Grande applauso!